Anna Tatangelo, in una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, ha allarmato i suoi tantissimi followers. L'ex moglie di Gigi D'Alessio si è mostrata infatti visibilmente dolorante in una sala di uno studio medico mentre preme del ghiaccio sul lato destro del volto. Quello che è realmente successo lo spiega la stessa cantante in alcune stories successive. La cantante di Sora infatti ha dovuto affrontare il dolore abbastanza comune a incontro con i denti del giudizio da estrarre. Lo scrive la stessa Tatangelo, estrazione del dente del giudizio, tutto chiaramente si è risolto per il meglio, anche se la cantante ha attraversato una giornata decisamente dolorosa. Ha spiegato i suoi tantissimi fan che ritornerà più presto al lavoro.